Grazie a tutti. Quel programma avrà parlato poco alle persone, se ne è saputo poco, tuttavia è un programma condiviso molto importante, alcuni passaggi li ricordava ora qui Alfonso Giarni, io penso che possa continuare sul piano delle idee e del programma a restare un punto di confronto permanente tra le persone, anche con le forze politiche che hanno sostenuto quel progetto. Credo che sia stato parte di errori che diceva Antonio Ingroia e io credo che dobbiamo imparare però dai errori, non continuare a ripetere. Non ci si può improvvisare all'ultimo momento. Io sono una femminista, sono comunista, sono una femminista sindacalista e devo dire che le pratiche contano molto. Potremmo incontrarsi prima, sapere dove ci si incontra, sapere quali sono le questioni che si mettono a partita insieme per fare una battaglia comune possono dire di una cifra e di un risultato. Quindi l'errore c'è stato ed è stato a mio avviso trasversale come non aver colto che tu non puoi far calare dall'alto, che si tratti di partito, si tratti di cosiddetta società civile, le candidature da un punto all'altro delle regioni senza che queste entrassero diciamo così in relazione con quel territorio. Io penso che c'è un terreno comune, soprattutto questo della Costituzione perché noi di Fondazione Popolista siamo molto legati al primo articolo della Costituzione che dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E sappiamo che l'inserimento del pareggio di bilancio diciamo così è sovraordinatore naturalmente dei diritti, cioè i diritti se si può, se il pareggio di bilancio è conseguito oppure no. Quindi questa rischia di essere una repubblica forse democratica per le cose che abbiamo ascoltate fondata sul pareggio di bilancio e non più appunto su quei valori fondamentali che la Costituzione ci ha consegnato. Per questo e per molte cose che qui sono state già dette io penso che abbiamo necessità di andare avanti su questo terreno anche insieme, provando anche a superare di steccati cos'è partito e cos'è società civile. Io l'ho detto in un'assemblea di cambiare si può, un altro percorso di cui molti di noi hanno responsabilità, forse anche per come si è concluso. Lo dissi là, io non credeva che io civile non fossi, cioè ognuno di noi è tante cose, lavora, fa politica, è iscritto o meno a un partito. Allora smettiamola anche con queste divisioni. Voi parlate di campagna delle idee, misuriamoci sulle idee. Io condivido pienamente l'ordine del discorso legato al sistema istituzionale che ha fatto qui tabaci. Che ha fatto qui tabaci. Quindi diciamo così, come si vede, sono tanti terreni di confronto. E credo anche, su questo concludo, perché molte cose dette le ho condivise. E credo anche che noi dobbiamo porcere il tema, però, di come facciamo un compendio serio tra le idee e le forme con le quali dobbiamo portare avanti. Guardate, io sono preoccupata del fatto che partano dieci iniziative di dieci soggetti e tutte con la stessa aspirazione, cioè quello di unire. Possiamo permetterci dieci iniziative dentro la frammentazione, dentro la desertificazione, dentro il fatto che la battaglia ha quel livello che qui è stato detto da molti, per cui appunto oggi non solo abbiamo il problema della forma, della legge elettorale, ma ci sta anche che questo governissimo delle cosiddette larghe intese dice alle persone che è inutile votare ed è stato un potentissimo strumento per la grande astensione che c'è stata, per esempio, a Roma. Quindi l'inutilità del voto è rappresentata anche dalle scelte che sono state fatte lì. Allora, io che penso che noi, naturalmente, di Fondazione Comunista, ma tutte le nostre forme, compreso il PD, non siamo autosufficienti e dovremmo partire dalla nostra non autosufficienza e cominciare a ragionare di che cosa mettiamo in campo. Noi, per esempio, ragioniamo su un'ipotesi di costituente in cui non ricertiamo l'ennesimo salvatore, l'ennesimo leader, ma invece una costituente che mette insieme personalità che ci aiutino a ragionare anche sulle forme necessarie oggi per costruire un soggetto politico all'altezza della situazione, altrimenti continueremo ognuno di noi nei propri percorsi ma ognuno di noi non sarà in grado di rispondere ad appuntamenti di questo livello, comprese le prossime elezioni europee. Guardate, noi non ci stiamo a fare una cosa all'ultimo momento. Cioè, le elezioni europee parlano appunto delle questioni che qui sono state affrontate, il fiscal compact, il bilancio, la crisi economica. C'è una dimensione europea della quale, diciamo così, dovremmo discutere perché riguarda, diciamo così, la parte viva delle persone, riguarda le condizioni di vita delle persone e andandone, io dico che questo nostro paese sta diventando il meno europeo. Noi abbiamo un'americanizzazione delle forme della politica, abbiamo un'americanizzazione, diciamo, anche della forma dei partiti, ma in Europa non c'è un altro che il paese in cui i partiti non si chiamano per le affinità di tonno. Qui abbiamo dato come che c'è la parola, c'è confusione. E soprattutto, io credo che siamo anche il paese meno europeo perché mentre io leggo tutti i giorni, guardo tutti i giorni nei telegiornali che a Barcellona come a Parigi, a Parigi come a Madrid o in altri capitali europei, il conflitto ha una dimensione collettiva e di classe per cui si capisce che la crisi attacca in questo momento, in questo nostro paese le soluzioni ognuno è costretto a trovarsene da solo. Questo è un tema che interroga anche, diciamo così, CGL, Cisle e Wink. Perché a me mi hanno mandato, mi mandano in pensione sei anni più tardi, bloccano i contratti del pubblico in chievo fino all'2014. Ogni giorno le succede uno, scusate, ma cos'altro deve succedere? Per avere uno sciopero generale all'attesa della situazione e non una manifestazione di sabato. Cos'altro deve succedere? Per trovare i servizi, per fare una cosa che parla il cuore e ha la possibilità di rendere figace una iniziativa. Cos'altro? A me mi sta togliando tutto. Io sono una lavoratrice e una dirigente del partito, una dirigente politica. Mi sta togliando tutto. Non so più con chi prendermela. Mi dice il mio sindacato che me la devo prendere col governo. Come? Da sola? Ecco, allora io penso che dovremo provare a tornare ad essere più europei. Per questo, augurando di buon lavoro, io penso davvero che abbiamo un terreno di lavoro comune, importante non ultimo, ripartire anche dal programma. Non dalle pratiche, ma dal programma di evoluzione civile, che è stato un utile punto di confluenza. Grazie. 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 Grazie.